Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in Via di Palma, l'ultimo tratto di Via di Palma a pochi metri dall'arsenale della Marida Militare, dunque una zona centralissima. Circa 7-8 giorni fa, quindi 7-8 giorni prima di questa registrazione che stiamo facendo, non ricordo bene se i dipendenti dell'AMIU o altra ditta incaricata al verde sempre per conto del comune di Taranto ha proceduto alla potatura degli alberi. Bene, sono trascorsi 8 giorni e qui tutto il fogliame, tutti i rami sono qui abbandonati. Una situazione di degrado sconfortante, assoluto, vergognoso. Ma io dico, come ci si organizza per la rimozione di questi rifiuti, di questo materiale derivante dalla potatura? Ma ci rendiamo conto? Ma si può lasciare il cuore di Taranto, una città in questa situazione? Non è oltre all'immagine schifosa che viene fuori, ma voglio dire, qui si rischia di scivolare perché le foglie, le ghiande, l'umidità creano a terra una superficie estremamente scivolosa. Si crea a terra, come dire, una sorta di poltiglia. Questo è l'aspetto davvero raccapricciante e soprattutto, mi domando, come mai si aspetti tanto? Cioè, chi organizza la potatura? Automaticamente, ma non dico subito, ma almeno dopo un giorno, dopo due giorni al massimo, deve provvedere alla rimozione. Ma non che si lascia lo schifo, l'abbandono, si lascia una zona così nel più totale abbandono. E non è solo questo caso che voglio segnalarvi. Ora vedrete le immagini della pineta di via Ancona, alle spalle della chiesa Santa Teresa. Forse due mesi fa cadde un albero, perché per una sorta di tromba d'aria, si sradicò letteralmente. Bene, è stato sezionato il tronco e i resti del tronco sono lì abbandonati. Le immagini parlano chiaro. E sono trascorsi due mesi, forse due o tre mesi. Qui siamo a otto giorni, nel pieno centro di Taranto. Allora io capisco le difficoltà economiche di un ente, capisco tutto. Ma signori cari, qui stiamo parlando di inefficienza amministrativa. Perché io, amministrazione comunale, prendo per le orecchie la ditta o la municipalizzata. Non so bene, ripeto, se l'intervento di potatura è stata realizzata dall'AMI o da altra ditta. Ma prendo il responsabile di chi ha fatto potare gli alberi, lo prendo per le orecchie. E queste schifezze gliele faccio raccogliere con la lingua, signori cari. Questa è la verità, perché evidentemente non esiste un controllo successivo all'azione di potatura. Si pota, si butta a terra quello che rimane e poi chi si è visto, si è visto. Ecco, interventi che non costano nulla, perché rientrano nell'intervento così generale di potatura. Lo dico con rabbia, perché qui stiamo parlando di una città che ambisce giustamente ad essere una meta turistica e non può permettersi una schifezza del genere nel pieno centro a pochissimi passi dall'arsenale militare. Immaginate, lo ripeto, gli insetti, i ratti che si insinuano tra questo materiale di risulta. Grazie a tutti.